Diciamo che oggi si passa dalla parola ai fatti. Noi nell'Assemblea di qualche settimana fa, alla presenza peraltro del Presidente Bonomi, abbiamo sottolineato come per quello che ci riguarda la sicurezza dei suoi luoghi di lavoro è al primo posto. È una priorità assoluta. Anche un solo morto è una sconfitta. È evidente che quando si dovesse verificare un fatto del genere è giusto che chi ha sbagliato venga punito, anche se veramente. Ma è altrettanto vero che una volta che è capitata la tragedia e ha capitato la disgrazia serve relativamente. Noi invece riteniamo che dobbiamo operare a monte, prevenire affinché gli infortuni sul lavoro non si verificano. E quindi questo va fatto attraverso certamente investimenti in formazione e in informazione. Oggi con l'INAIL inauguriamo, anzi proseguiamo, perché già prima della Pendevia avevamo avviato una convenzione che svolgeva questo tipo di attività. Oggi specificatamente noi ci rivolgiamo a una categoria particolarmente vulnerabile, che sono i lavoratori stranieri, che sappiamo essere ormai in gran numero presenti in tutte le attività produttive, per motivi di lingua, per atteggiamenti culturali, necessitano di un investimento, come dire, suppletivo, affinché abbiano consapevolezza di cosa significa quelli che sono i rischi sul luogo del lavoro. Quindi con l'INAIL inauguriamo questo tipo di iniziativa, questo tipo di attività, che prevede una serie di step, che coinvolgerà un certo numero di imprese, ma che soprattutto si rivolge ai lavoratori stranieri, soprattutto quelli dell'edilizia e dei trasporti, che sono i settori che, dalle statistiche che sono state fornite da lì, sarebbero quelli che con le lavoratori stranieri sono più, diciamo, soggetti a questo tipo di incidente, per fare in modo di poter preventivamente agire affinché non si verificano. Ben conosciamo la situazione, purtroppo, di questi eventi fatali, imprevedibili, ineluttabili, insomma, che comportano un costo sociale umano. In Calabria i casi mortali ad oggi sono 18, di cui 8 in edilizia. Questo ci impone comunque di andare avanti nel percorso formativo e nei percorsi obbligatori che devono avere i lavoratori, perché effettivamente per incidere in maniera significativa sull'andamento infortunistico, perché oltre agli infortuni mortali abbiamo anche gli infortuni gravi, gravissimi, che meritano comunque attenzione, occorre introdurre anche un concetto etico del lavoro, cioè il lavoro non soltanto visto come business, come possibilità di incidere economicamente, ma anche come salvaguardia dei lavoratori, del capitale umano che l'azienda ha. Basti pensare che l'incidenza del costo sociale e degli infortuni, sia tra costi diretti, indiretti, di prevenzione, si attesta in Italia sul 6,4% del PIL, in Europa il 4%, e quindi sono 404 miliardi di euro che si spendono nel sistema Italia. E' naturale che bisogna incidere in formazione, ma una formazione attiva fatta anche con il servizio di prevenzione all'interno delle aziende, con una maggiore consapevolezza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori sull'importanza della prevenzione e delle misure per prevenire appunto i rischi. La consapevolezza dei rischi è proprio il cardine importante per poter porre dei rimedi a questa strage che purtroppo continua. Si è fermata un attimo nel periodo pandemico, abbiamo avuto altri problemi ovviamente per il Covid, per tutti i morti diciamo da Covid, però è riemersa in maniera preponderante adesso quando si sono aperte tutte le attività. Allora dobbiamo cercare tutti, tutte le parti sociali, le parti datoriali, i rappresentanti dei lavoratori, e quindi anche i sindacati, attuare una politica di formazione, informazione ed eticità, nuova eticità del lavoro.